Grande successo del Molise per il Salone del Camper che si è svolto a Parma. Il punto oggi in una conferenza stampa. Sono state 20 le aziende del Molise che hanno partecipato all'edizione 2024 del Salone del Camper di Parma. Il punto oggi durante una conferenza stampa, un successo in termini di presenze e riscontri per l'iniziativa che è stata realizzata dall'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli in collaborazione con Molise Acque grazie al protocollo d'intesa di recente costituzione tra i due enti. Obiettivo promuovere un nuovo tipo di turismo sfruttando la ricchezza e la tipicità delle sorgenti molisane. Due enti regionali che attuano una programmazione regionale significa dare un senso anche agli enti regionali che sono gli attuatori e alla stessa regione che sono i programmatori. È semplicissimo il discorso per cui devo dare solo atto a Molise Acque che ha colto questa esigenza e noi per la parte nostra sfruttiamo questo discorso di Molise Acque e delle sorgenti per attirare una moltitudine di camperisti che sono interessati perché il camper oggi è un camper che gira, che si muove, che non è solo quel camper o quella tenda che una volta anche adesso vanno sul mare. Si muovono e muovendosi riescono a portare economia alle realtà in cui si trovano. Il camperista se si ferma in una struttura nostra, in una fattoria, in un agroturismo, in una cantina, questi camperisti non pigliano una bottiglia di vino, pigliano casse. Allora stiamo andando avanti con questo discorso. Molise Acque non solo ha colto insieme con noi il valore di questa iniziativa ma anche perché il discorso delle sorgenti non viene visto a livello nazionale se non come dove vengono tolte le acque per metterle nelle bottiglie. Molise Acquee